Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Oggi affronteremo un tema che riguarda l'avvocatura e le pari opportunità. Infatti ci occuperemo della natura giuridica e delle funzioni dei comitati pari opportunità. I comitati pari opportunità fanno parte dell'istituzione dell'avvocatura al pari del Consiglio dell'Ordine, dei Consigli di Disciplina, dell'Organismo Congressuale Forense e del Consiglio Nazionale Forense. Noi oggi affronteremo un tema che è quello delle pari opportunità, un organismo che non è molto conosciuto nemmeno dagli addetti ai lavori, perché è istitutivo della legge 247 del 2012 e oggi avremo modo di approfondire quelle che sono le funzioni di quello che si occupa. Fondamentalmente dobbiamo occuparci di questioni di disuguaglianza o comunque di disuguaglianza di genere per quanto riguarda l'accesso alla professione forense da parte degli avvocati più giovani, piuttosto che degli avvocati disabili, piuttosto che delle donne e sappiamo il gap reddituale che Cassa Forense ogni anno ci invia sulla differenza reddituale tra uomini e donne. Quindi affronteremo questa argomentazione, abbiamo l'onore e il piacere di poter ospitare all'Ocri preminenti figure delle pari opportunità italiane. Abbiamo Tatiana Beggioni che è il presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'avvocata Pina Rifierati che è il presidente del CPO degli Avvocati di Udine, l'avvocato Adriano Scardaccione che è tesorello del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'avvocato Stefano Chinotti che è il presidente del Comitato per l'Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Bertiamo e Daniela Latti che è il presidente del CPO dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari. Quindi adesso affronteremo questi temi, ringraziamo ovviamente il Consiglio dell'Ordine che ci ha dato il patrocinio, ringraziamo il Comune di Locri che ci ha assegnato la sala e ci ha concesso di poter discutere oggi in questa sede, porterà puri saluti il presidente nazionale di Movimento Forense perché l'abbiamo organizzato in sinergia CPO, Avvocati Locri e Movimento Forense che è un'associazione di politica forense generalista e ci saranno anche i saluti portati da Maria Rita Stiro che è componente della Commissione Integrata delle Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense che porterà i saluti della presidenza nazionale Maria Masi. Buonasera a tutti, saluto tutti i presenti naturalmente, la mia presidente del Consiglio dell'Ordine di Locri che ringrazio per l'accreditamento di questo evento che abbiamo voluto fortemente ma che soprattutto ha voluto fortemente Rocco Lombardo. Naturalmente ringrazio tutti i relatori che sono venuti da molto lontano per omaggiarci e darci questa possibilità di condividere con loro le loro esperienze in questa materia che sembra apparentemente semplice ma in realtà è molto complessa, essendo trasversale rispetto alla parità di genere che non è solo tutela delle donne delle discriminazioni ma è ben altro. Terzo settore è tutto quello che ne consegue, oltre alle problematiche dell'avvocature che sono abbastanza importanti anche in questa materia. Vi ringrazio uno per uno, Tatiana Biagioni, Stefano Chinotti, Daniela Latti, Pina Rifiorati, nostra conterranea che ci ha abbandonato e se ne è andata al freddo, ma le vogliamo bene lo stesso. Non per ultima, o per ultimo, Maria Di Castillo, amica carissima e bravissima collega che si occupa da tanto tempo come le altre insieme al CNF di queste problematiche. Ed infine, ma non perché ultimo, Adriano Scartagione, sempre presente e sempre sul pezzo per quanto riguarda le pari opportunità. Naturalmente ringrazio Rocco che si è speso molto per questo evento e ha dato veramente il massimo per la riuscita di questo convegno. Lascio la parola ancora una volta a Rocco per la continuazione di questo evento. Oggi il mio ruolo è istituzionale, nel senso che porto, approfitto per portare i saluti della Presidente Masi, che presiede la nostra Commissione Integrata per le Pari Opportunità e da cui fa anche parte il collega Stefano Chinotti. Oggi la Presidente è impegnata in Campania, quindi nella sua terra, e ha delegato me per portare un saluto, altrimenti ci teneva che lei anche per delega fosse presente. Io mi limiterò a poche notizie di servizio, perché è giusto per introdurre quello che poi i nostri relatori ci parleranno. Come diceva Gabriele, il tema è difficile, nel senso che da un punto di vista giuridico è stato oggetto di studi, sicuramente. Quello che noi ci siamo occupati da sempre, io provengo dalle pari opportunità, dai comitati, poi sono per passare per il Consiglio, sino al Consiglio nazionale. Le politiche di genere ci hanno sempre, quindi ci occupano da anni, e quello che ho notato è che, come me ne possono dare atto poi i colleghi oggi presenti, che alcuni temi che affrontavamo circa dieci anni fa, 12 anni fa, e che affrontavamo con difficoltà, quasi derisi certe volte, perché venivamo anche presi in giro da certi temi che affrontavamo per linguaggio che utilizzavamo. Adesso, per fortuna, è entrato nel quotidiano. Cioè, certi temi sono nostri, perché sono frutto di battaglie che abbiamo già fatto nel corso del tempo. Mi limiterò a dire, ma non per ultimo, che la Calabria e i comitati hanno fatto parte della rete Calabria, è stata stata la seconda rete regionale dopo la Toscana, e dalle reti dei comitati che la Commissione nazionale è partita, perché è da lì il frutto di gruppi di lavoro di cui oggi le colleghe vi parleranno e vi illustreranno. Dirò soltanto brevemente questo. Uno dei gruppi di lavoro era proprio sulla natura giuridica, di cui ci parlerà Tatiana, di cui ci parleranno le colleghe, come per esempio, io ho coordinato il gruppo violenza di genere, del quale il corso è appena iniziato, il corso di alta formazione organizzato dal Consiglio nazionale, Stefano fa parte della Commissione di diritti umani, anche ha coordinato un corso di alta formazione in tema di diritti umani, come vedete tutti i temi strettamente connessi e strettamente collegati. Per non parlare del diritto antidiscriminatorio, del quale il mese scorso è stato sottoscritto, reiterato il protocollo con l'UNAR, con l'ufficio antidiscriminazioni presso la Presidenza del Consiglio, proprio perché il Consiglio nazionale si è fatto portavoce di un corso di alta formazione in diritto antidiscriminatorio, quindi le materie di cui ci occupiamo, replicato sui territori, dal quale poi, con un esame finale, è nata una short list presente presso l'UNAR, dal quale attingere, quindi di avvocati, avvocate esperte in materia, per poter patrocinare le cause in diritto antidiscriminatorio. Io, e per ultimo, chiudo, riallacciandomi a Gabriella, la quale è coordinatrice di un altro gruppo di lavoro, welfare e previdenza, e chiuderemo l'anno, diciamo, questo mandato, questa legislatura consigliare, con un altro corso di alta formazione che inizierà in me, proprio su welfare e previdenza, di cui la collega Gabriella Romero si è fatta portatrice, quindi sta raccogliendo le istanze dei territori. Quello che è praticamente il frutto di questi gruppi è proprio questo, raccogliere quelle che sono le istanze dei territori coordinate e le buone prassi poi trasferite a livello nazionale. E credo che questo, forse con un piccolo pizzico d'orgoglio, possiamo dire di esserci riusciti. Io vi ringrazio, non tolgo ovviamente altro spazio, perché i temi sono interessanti, e un buon lavoro a tutti, grazie. Non mi ringrazio, oltre, lascio la parola, quando riconosco, che non fa bene, così riusciamo a capire come districarci, a Tatiana Biagioni. Tatiana Biagioni è la Presidente del C.P.O. dell'Ordine degli Avvocati di Milano, è la Presidente Nazionale degli Avvocati Giuss-Lavoristi Italiani. Prima donna, bene, lo sottolineiamo. E da poco, sono contento, lei era un po' resti a dirlo, però, da pochissimo tempo è consulente del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi io lascio la parola a Tatiana Biagioni, che ci introduce nel tema delle pari opportunità. Grazie, Tatiana. Allora, grazie a voi, mi scuso per la voce, ma è il meglio che posso dare oggi. Allora, una cosa vorrei dire, prima di iniziare a parlare, vorrei un po' fare un discorso generale, se me lo permetterò, che poi dopo magari ci sarà una possibilità con un secondo giro di approfondire. La prima cosa che vi voglio dire è che oggi all'Ocri è il mio ultimo intervento da Presidente di un Comitato Pari Opportunità, quindi chiudo qui un'esperienza durata tantissimi anni. mi rimetto lunedì, cioè mi sono già dimessa, non sono mai formalizzata, mi sono dimessa lunedì perché ho tante altre cose, non lascio assolutamente pari opportunità, ma lascio che siano altri a, diciamo così, a presiedere il Comitato di Milano. E quindi sono molto contenta comunque di chiudere al Sud, di chiudere qui in Calabria. Io volevo partire con un ragionamento un po' più generale che riguarda le pari opportunità, mi concentrerò sul genere, perché il genere è stato in questo Paese un po' quello che è stato negli Stati Uniti la razza, cioè il tema dal quale si è partiti per riflettere sul tema del diritto antidiscriminatorio, delle discriminazioni in Italia. Allora, la cosa di cui parlo spesso quando comincio a parlare di pari opportunità è capire se, dobbiamo tutti riflettere su questo, ma esiste veramente un tema, un problema di pari opportunità in questo Paese? Esiste un tema di pari opportunità in avvocatura? Non è una domanda banale, perché se esiste allora è giusto impegnarsi, è giusto il lavoro dei citrioli, è giusto il lavoro che stiamo facendo, non è una cosa che dobbiamo assolutamente sottovalutare. La prima riflessione, quindi partendo dal genere, ma poi si può impiare anche tutti gli altri fattori di rischio, perché sapete che poi i comitati si occupano di tutti i fattori di rischio, previsti nella normativa, è il fatto che in questo Paese esiste un enorme tema di discriminazione di genere nel mercato del lavoro, ad esempio. Il mercato del lavoro in Italia sia del lavoro dipendente che del lavoro dono. In particolare nel lavoro dipendente è notorio che tutte le strutture, soprattutto nell'economia privata, hanno una struttura piramidale, quindi le donne hanno difficoltà che riguarda sia l'accesso alla professione, ma grandi difficoltà anche nelle progressioni di carriera, e difficoltà e, diciamo così, grande differenza in relazione ai redditi, e questo da qui nasce poi anche la mia collaborazione con il Dipartimento per cui abbiamo in particolare della nuova normativa che riguarda la certificazione delle aziende in tema di pari opportunità. Quindi dopo anni in cui si è affrontato questa tematica, quindi finisco questo ragionamento dicendo che sì, c'è un problema molto grande di discriminazione delle donne nel luogo di lavoro, manca l'ultimo mezzo che è quello forse tra i più relevanti che è la maternità, che poi è il nucleo che comporta tutta una serie di difficoltà nel rapporto lavorativo, in particolare subordinato. Ecco, questa legge, insomma, relativamente nuova, l'anno fa, del 2021, ha previsto la certificazione di genere nelle aziende, che quindi cambia un po' il paradigma che è stato utilizzato fino ad oggi, se fino ad ora la normativa era relativa soprattutto alla, diciamo così, aveva un intento di protezione della donna e di punizione della, diciamo così, della norma quando non veniva applicata, ora si cambia paradigma, si pensa a una, diciamo così, una trasparenza delle aziende e si pensa anche a una premialità. Sì, dopo che ha preso la parola Tatiana, a due giorni, diventa sempre un po' una strada in salita, quella di mantenere il livello. Perché i comitati pari opportunità si devono occupare di questa cosa? Ma in generale perché gli avvocati e le avvocate dovrebbero avere a cura la tutela delle minoranze sessuali, delle minoranze religiose, prima non l'ho detto, delle minoranze, tra virgolette, razziali? Perché, ce l'ha detto Tatiana, la nostra funzione è una funzione di sentinella, la nostra funzione è una funzione sociale, cioè l'avvocato e l'avvocata devono occuparsi dell'inveramento dei principi che sono stabiliti, non solo nella nostra carta costituzionale, ma anche nell'ordinamento dell'Unione Europea, a cui noi, attraverso il parametro dell'articolo 117 della Costituzione, dobbiamo, qui il nostro ordinamento, deve conformarsi. Ma in che misura l'attività dell'avvocato può essere un'attività utile a far conseguire alcuni diritti che mancano, a far riconoscere alcuni diritti che non vengono riconosciuti, promuovendo delle cause cosiddette pilota, ovvero utilizzando quegli strumenti, perché purtroppo il nostro diritto nazionale, il diritto sovranazionale, ci fornisce degli strumenti che però non sempre, ora molto di più, devo dire la verità, perché una volta quando si andava davanti a un tribunale e si parlava di una sentenza dell'acedu, i giudici così dicevano ma avvocato ma di che cosa sta parlando? Ecco, ora non è più così, perché bisogna riconoscere che anche la magistratura da questo punto di vista ha fatto dei passi notevoli in avanti e quindi le sentenze dell'acedu ad esempio o della Corte dei Diritti vengono sempre più spesso recepite e citate nelle sentenze dei nostri giudici nazionali ma che cos'è che noi avvocati e noi avvocate siamo riusciti ad esempio a ottenere siamo riusciti ad ottenere degli strumenti poderosi di uguaglianza soprattutto a favore parlo di cui mi occupo io della comunità LGBT ricordate che la legge del 2016 la cosiddetta legge Cirinna che ha istituito le unioni civili delle persone dello stesso sesso non è come a volte ci vogliono far credere piovuta da una decisione politica è stata la diretta conseguenza di una sentenza che è una sentenza della cedula sentenza Oliari contro Italia cioè Italia è stata condannata perché non riconosceva nessun tipo di tutela alle coppie omosessuali e da lì ovviamente per evitare un massiccio di dover affrontare un massiccio numero di ricorsi l'Italia è dovuto il nostro governo è dovuto il nostro Parlamento è dovuto correre ai ripari e approvare la legge sulle unioni che peraltro deriva da un'azione che è stata promossa dall'Avvocatura per i diritti LGBT che è l'associazione di cui faccio parte io che dieci anni prima aveva portato una serie di coppie omosessuali davanti agli ufficiali di Stato Civile chiedendo la pubblicazione prematrimoniale e gli ufficiali di Stato Civile negavano e noi impugnavamo e siamo arrivati alla Corte Costituzionale con una sentenza della 138 del 2010 ha sancito un principio molto importante ovvero che le coppie omosessuali avessero la medesima dignità concessa alle coppie eterosessuali e avessero i medesimi diritti di vedersi tutelate e un'altra battaglia che è stata fatta da avvocati e da avvocatene ad esempio nei confronti a favore delle persone transgender è quella che consente ora il cambiamento la rettifica anagrafica delle persone senza obbligarle a interventi di chirurgia demolitiva voi pensate che fino al 2015 se una persona voleva cambiare sesso doveva obbligatoriamente sottoporsi a interventi di fatto di sterilizzazione cioè all'amputazione per quanto riguarda per esempio gli uomini degli organi di riproduzione primaria oppure all'asportazione per quanto riguarda le donne di tutta l'apparato riproduttivo ora non è più così e non è più così a favore cioè in conseguenza di una battaglia giudiziaria di una lotta giudiziaria che ha portato a una sentenza che è la 221 del 2015 della corte costituzionale che ha riconosciuto che l'identità di genere è un diritto che prescinde dalla necessità della necessità di sottoporsi ad interventi demolitivi alla stesura del regolamento CPO questo va detto perché lo diciamo diamo la promessa noi viviamo su un regolamento che è stato emanato dal CNF con delle mani talmente larghe che consente praticamente a ciascun CPO di muoversi all'interno di queste mani di ore è necessario secondo me partire dall'origine della storia dei comitati per le opportunità e brevemente voglio riassumere perché essendo la più anziana non solo anagraficamente ma anche come credo esperienza dell'escursus del comitato credo di avere vissuto tutta una serie di passaggi importanti che secondo me aiutano a capire cosa sono i comitati perché sono praticamente sono arrivati dove sono arrivati e dove vorrebbero andare intanto la prima premessa da cui dobbiamo partire sicuramente è quella che hanno accennato in precedenza sia Tatiana che Stefano e che praticamente c'è stata questa istanza a un certo punto anche da parte del CNF di voler mi pare dalla guida alpa che chiamò Carla Guidi che dobbiamo ricordarla il faro delle pari opportunità all'interno dell'avvocatura non solo territoriale perché tostana ma nazionale che mise le basi a quella che è la prima commissione delle pari opportunità che prevalentemente diciamo compì una funzione di studio della materia e soprattutto di individuare quali erano gli aspetti diciamo discriminatori in generale successivamente a questo momento importante che la Guidi diede all'interno del CNF che quindi portò a una sensibilizzazione dal punto di vista nazionale entrò a far parte del CNF una sorta di uragano sardo molto importante secondo me che è stata Susanna Pisano e che ancora gravita nell'ambito delle professioni ma all'interno anche del comitato delle CNF che diede praticamente vita con la sua partecipazione all'interno del CNF costituì per la prima volta la commissione delle pari opportunità commissione che tra l'altro tra le sue presenze contava sicuramente la Masi e contava anche la vostra conterranea Stella Ciarletta contava la Romanelli esattamente diciamo non mi ricordo tutte però mi ricordo loro perché sono le diciamo sono state la Romanelli vuoi perché di provenienza pugliese in particolare di Bari che diede vita al primo comitato pari opportunità diciamo che diede una grande spinta a livello nazionale alla creazione dei comitati eccomi qua buonasera a tutti e tutte diciamo che lo sforzo reciproco che oggi facciamo a essere qua in questo sabato pre-natalizio è compensato insomma dalla possibilità di confrontarci su questi temi e per me di confrontarmi insieme ai colleghi e alle colleghe insomma a quali mi lega ormai un rapporto di amicizia oltre che di stima diciamo che l'intervento di Daniela è stato foriero di discussioni quindi sicuramente ha animato la tavola rotonda e prima di parlare un po' delle funzioni nel linguaggio mi piaceva non sono intervenuta prima dire anch'io un po' due parole lei ci ha raccontato come si è organizzata lei a Cagliari questo perché perché il vuoto normativo a cui ha fatto anche cenno Tatiana all'inizio rispetto a come i CPO devono funzionare e di cosa devono occuparsi è stato evidente in questi dieci anni da quando i CPO sono stati istituiti nel 2012 perché se all'istituzione dei CPO si è arrivato come è stato detto grazie al lavoro che sono state fatte da colleghe prima di noi sono state citate da Daniela le commissioni già istituite nel momento in cui i CPO sono stati istituiti con questa riga con questa frase sono istituiti i CPO nella legge del 2012 da lì era di nuovo l'anno zero perché dovevamo capire appunto che cosa facevamo e come dovevamo funzionare e anche da questo punto di vista per noi che siamo arrivati dopo era veramente una strada da aprire da zero e se siamo arrivati qui è stato sempre grazie alle colleghe che per prima si sono occupate di questi temi e che soprattutto a livello di consiglio nazionale forense e prima fra tutte l'attuale presidente Maria Masi si sono prese la briga di ad esempio stilare una bozza di regolamento al quale i vari CPO potevano ispirarsi e poi soprattutto a mio avviso hanno pensato di fare delle riunioni con tutti i CPO d'Italia che mano a mano si andavano costituendo facendo rete la parola rete esiste solo per i CPO nell'ambito delle nostre istituzioni forensi quando parliamo di COA parliamo di unioni invece quando parliamo di CPO parliamo di rete questo perché i CPO diciamo non solo si trovano per confrontarsi per appunto capire di quali passi deve essere segnata la strada che stiamo percorrendo ma hanno bisogno anche di in qualche modo sostenersi essere solidari tra loro perché le tematiche di cui si fanno portatori sono tematiche rispetto alle quali molto spesso siamo chiamati a essere visionari rispetto a quello che accade nella realtà che ci circonda concludiamo il primo giorno di interventi mi va particolarmente perché con Adriano Scarpaccione che oltre a essere il tesorere del CPO dell'ordine degli avvocati di Roma si occupa del dipartimento dei civili del reparo costituale in movimento forense dato che giochiamo in casa per me è un grandissimo piacere quello che per oggi all'occhio sia per il rapporto personali e amicizia sia per il rapporto per il percorso di politica forense che stiamo portando avanti da un paio innanzitutto non posso ringraziare come dire il padrone di casa il comune di Locri che ci consente che ci ospita in questa prestigiosa sala consigliare in persona dell'assessore ringrazio infinitamente il CPO di Locri in persona della presidenza Mere Gabriella Romero e del suo validissimo segretario Rocco Lombardo il COA di Locri ovviamente e ovviamente ringrazio moltissimo la commissione integrata il CNF in persona di Maria Rita Stigo che ha portato non solo i saluti di Maria Masi ma anche della referente Rosalba Liscomo anche la calabrese ma soprattutto è inutile che ci giriamo attorno devo ringraziare quello volato l'avvocato quello che ha commesso l'errore perché comunque molte battaglie che abbiamo portato negli ultimi anni hanno creato questo rapporto che fa sì che noi ci sentiamo come dire a pieno titolo parte di questo gruppo di magnifiche eccellenze che oggi avete conosciuto e sì perché è stato detto più volte è necessario che gli uomini si occupino di questa materia assolutamente sì è necessario che non sia solamente la voce di una parte ma sia una voce dell'intero mondo forense in generale ma dell'intera comunità umana in generale ecco noi facciamo siamo parte di questa comunità perché ci vediamo e ci vediamo fortemente allora al di là di quella che è la sollecitazione di Rocco in realtà io mi sono insegnato solo sette piccoli punti da trattare quindi entro domani mattina spero di aver terminato il mio intervento anche perché come diceva l'assessora no al di là della campanella che suona io questa mattina ho mia figlia che suonava l'acchidemia in Santa Cecilia in orchestra e non mi perdonerà mai il fatto di non esserci stato insomma però ciononostante cerco di fare tutto io mi sento molto vocata a uomo perdonate la provocazione l'ha detto più volte Tatiana in altri incontri anche Pina io mi sento un'avvocata a uomo perché la questione linguistica per la quale i CPO sono continuamente derisi e sottovalutati è talmente importante che non vedo il motivo per cui ci debba essere un'avvocata donna e non ci debba essere un'avvocata a uomo io mi sento tutti gli effetti un'avvocata a uomo perché questo perché le questioni linguistiche della quale evidentemente ci ha parlato Pina prima non sono assolutamente questioni di carattere formale ma sono questioni di una sostanzialità incredibile e non solo per tutti gli attacchi più un'idea viene attaccata più questa idea è valida ora senza andare in ambiti che semplicemente nominarli e far capricciare insomma pensate a quello che sta accadendo in Iran in Afghanistan e in altre comunità internazionali dove la possibilità di manifestare il proprio pensiero è soppresso con la forza e molto spesso purtroppo anche con la morte non siamo per fortuna a quei livelli però comunque sentirsi dire che la questione linguistica della quale si occupa il CPO è una questione marginale perché ci sono altre cose più importanti allora facciamole altre cose più importanti non limitiamoci a contestare e criticare ciò che viene fatto ma facciamo veramente tutto ciò che è importante grazie a tutti